Giovanni Palma entra nell'orbita del Teramo. Il tributarista fino ad aprile vicepresidente della Juve Stabia potrebbe presto rilevare una quota consistente del pacchetto del diavolo. L'indiscrezione rilanciata stamane dal QS partiva dalla possibilità di acquisizione della San Benedettese da cui Fedeli vuole andare via e Palma, avvocato con studi a Roma, Napoli, Milano e Londra, smentendo l'avvicinamento ai rosso-blu, ha confermato invece di avere interesse ad entrare nel sodalizio bianco-rosso. Una strada, quella per il presidente Campitelli uscita dopo una chiacchierata informale di qualche giorno fa e che nulla aveva a che vedere col calcio, ma la buona predisposizione di Palma a ricominciare l'avventura col pallone, interrotta qualche settimana fa con le vespe giallo-blu poi promosse in Serie B, deve aver dato la spinta al patrone bianco-rosso per cercare di approfondire la tematica. Lo dice anche Palma, stiamo valutando assieme un mio possibile ingresso in società, il mio interesse è rientrare nel calcio dopo le mie prime esperienze, felici dal punto di vista calcistico e meno nei rapporti con i soci. La volontà è quella di acquisire un club e di esserne l'unico proprietario, così da non far nascere divergenze insieme alla proprietà e spingere sull'innovazione. Queste le parole rilasciate al quotidiano nell'edizione odierna, anche se Palma potrebbe accontentarsi, tra virgolette, di una quota molto consistente del pacchetto, in modo da rilanciare un progetto calcistico che Campitelli ha in mente, ma che deve avere il sostegno di imprenditori che ne affianchino l'azione, specie dal punto di vista economico. L'incontro a Roma di oggi, dunque, non sarà risolutivo, ma solo un'ulteriore esplorazione della volontà di Palma di tornare a occuparsi di calcio dopo poche settimane e dopo la brusca interruzione, arrivata a seguito della contestazione ricevuta a fine aprile, dopo la gara di spareggio al Menti tra Giuliano e Frattese per la promozione in Serie D. Gli ultras della Curva Sud Stabiese lo avevano accusato in quella circostanza di essersi defilato, lasciando da solo il patron Magnello. Un invito esplicito a lasciare il club che Palma aveva ufficializzato via social. Ora potrebbe avere anche una possibilità a Teramo? Complicato fare previsioni. Quello che è certo è che Campitelli continua ad intessere rapporti che siano in grado di dare un futuro diverso al suo diavolo, appena messo in salvo.